Allora, sono Laura Balzan, la Presidente del Circolo Legambiente di Malnate. Oggi stiamo promuovendo questa iniziativa europea, il Big Jump, anche qui ai mulini di Gurone, perché è utile e necessario manifestare che la qualità delle acque e dei fiumi deve raggiungere un livello di buono, come vuole la comunità europea entro il 2015-2016. E proprio per questo noi abitanti di Malnate vogliamo ricordare all'amministrazione comunale che è indispensabile valutare anche la situazione dell'Olona qui in questo punto dove è stata fatta una cassa di laminazione. Per questo chiederemo che vengano fatte le analisi delle acque. Sappiamo che per farle analizzare si deve affrontare un costo di 500 euro, che non è una cifra grande per un comune ma per un'associazione di volontari lo è. Per cui come prima richiesta faremo questa, valutata la situazione e poi bisognerà anche vedere le proposte per arrivare a un livello di qualità buono. Le opere fatte di collettamento e del nuovo depuratore a Torba sicuramente vanno in questa direzione. Bisognerà però valutare attentamente che non esistano più emissioni non regolari nel fiume. Ancora una volta ci siamo buttati nell'Olona per dire che vogliamo i fiumi puliti e vorremmo che la Lombardia non venisse se dovesse passare l'idea di una multa per la direttiva comunitaria sulla qualità delle acque punita con 350 milioni di euro per non essere in grado di migliorare la qualità delle acque. Noi invece anche con iniziative come queste assolutamente simboliche vogliamo dire che bisogna impegnarsi fortemente sulla tutela dei corsi di acqua sostanzialmente. È un invito veramente a tutti, dagli enti locali alla cittadinanza per fare tutto quello che si può e bisogna mettere in campo per il disinquinamento e la depurazione delle acque. L'Olona sta un po' meglio grazie al depuratore di Gornate però da un'ultima analisi dell'ARPA è emesso che comunque i tratti trasorbiate e olgiate sono ancora molto critici. Di conseguenza anche lo stesso tratto dove abbiamo fatto il bagno oggi non è il massimo della vita bisogna dire, anzi tutt'altro. Di conseguenza bisogna lavorare veramente veramente tanto. E' per questo che ci stiamo disinquinando noi dopo il bagno nell'Olona. Viva l'Olona! Meno inquinamento nell'Olona. Bella, bellissima. Grande Dino! Vai Dino!